Buongiorno a tutti, sono il caporeparto Lorenzo Botti e faccio parte del nucleo cinofili della direzione regionale Vigili del Fuoco per il Lazio. A fianco a me è il mio collega Quattro Zampe, si chiama Kim, un pastore belga di 5 anni, che collabora con me e quindi fa squadra unica. Il nucleo viene attivato per gli interventi in caso di calamità e di ricerche sia a livello nazionale che a livello internazionale, per esempio il terremoto dell'Albania o il crollo del Ponte Morandi oppure il così drammatico intervento di Rigopiano. Da anni il Corpo Nazionale si avvale di questa specialità e di questi collaboratori così importanti che noi definiamo proprio colleghi a tutti gli effetti per svolgere questa attività con il motto il fiuto del cane può salvare una vita.